ciao riccardo benvenuto tuo papà ti ha fatto un bel regalo una un'ora di simulazione al centro f drive garage dimmi tu hai provato la formula 1 hai provato il camion e il rally ti sei divertito sulla formula 1 inizia sulla formula 1 che è la tua prima passione si sente molto difficile frenare vi avviso che comunque riccardo ha solo dieci anni ed è andato alla grande poi hai provato anche il nostro camion difficile inizio imparare per le marce ma poi appena imparare e infine hai anche sfidato il rally il simulatore di rally che devo dire che è stato la cosa più difficile del mondo tra cambiare girare e ascoltare bene riccardo grazie grazie anche a papà giovanni ci rivediamo presto ciao ciao